Una campagna elettorale continua che sarà infuocata anche per tutta l'estate. Lo conferma poco fa un post su Facebook di Alessandro Di Battista che scrive riguardo al salvataggio delle banche venete queste concilianti parole. Ricordatevi i loro nomi, ricordate i loro volti. Sono quelli che per quattro anni hanno detto che non ci sono soldi per dare un reddito di cittadinanza a chi vive sotto la soglia di povertà. Sono quelli che hanno detto che non ci sono soldi per aumentare le pensioni minie. Sono quelli che hanno detto che non ci sono soldi per abbassare le tasse alle imprese. Oggi sono quelli che trovano miliardi su miliardi, quattrini nostri, per salvare quelle banche che loro stessi hanno spolpato. Sono i servi del capitalismo finanziario, gli schiavi di quella bancocrazia che ha sostituito la democrazia. Queste le parole di Di Battista. Franco Bechis, sarà uno dei motivi principali del prossimo spezzone di campagna elettorale? A parte che la questione banche è da sempre, dall'inizio praticamente, da due anni a questa parte. Direi che è stata decisiva in tutti i passaggi che abbiamo vissuto negli ultimi due o tre anni. Secondo me anche sulla vicenda referendaglia di Matteo Renzi ha inciso non poco la questione banche. Quindi sì, credo di sì. È uno degli argomenti più impopolari che ci siano. Continua ad essere presente. Anche questo salvataggio delle banche venete, come sempre, prima puoi vedere gli atti, i decreti. Io stasera ho sentito una conferenza piuttosto confusa, se devo essere sincero, del Ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. Ma perfino nei numeri, perché se uno faceva le somme di quello che aveva detto, non corrispondevano ai totali che ci sono nel decreto. Quindi mi stupisce ancora di più cosa ci sarà, mi incuriosisce cosa ci possa essere in quel decreto. Detto questo, è evidente che vedere per tanti anni esplodere degli scandali, che poi non hanno mai colpevoli veri, nel senso che non ci sono processi bancari che stiamo seguendo con grandissima tensione, per cui si buttano via una marea di risorse pubbliche. Quelli di stasera, immediatamente stanziati, fanno parte ancora di quel pacchetto da 20 miliardi del decreto di dicembre, perché aveva ancora capienza, non erano stati usati tutti sul Monte dei Paschi. Però, insomma, vedere tanti soldi pubblici che vengono utilizzati per risolvere delle crisi, che non hanno mai nessun colpevole. Questo è uno dei temi, non solo in popolare, ma su cui c'è un'attenzione giusta, perché se non c'è nessun colpevole, allora quella distruzione di valore chi l'ha fatto? Se uno guarda i conti di alcune di queste banche che sono territoriali, dovrebbe aggirarsi in quei territori ed essere più o meno nel deserto del Sara. Siccome questo non è, perché non è la realtà... È la zona del paese che è cresciuta di più nell'ultimo anno, no? Sì, ma anche quando parlavamo di Arezzo, non è che Arezzo sia una città distrutta, bombardata come Amatrice o terremotata come Amatrice. Allora ci sarà qualcuno che ha prestato dei soldi a qualcuno che non poteva restituirli, non ha tantissimi e ha buttato, ha gestito male la banca e poi però non paga. Questo è un problema che obiettivamente c'è in tutte, è il filo e il filo russo di tutte queste crisi. I banchieri, non abbiamo visto grandi processi ai banchieri per i pasticci fatti. Sì, mi è capitato anche di dirlo stasera. Non mi pare di vedere né i tribunali, né per carità non si auspica mai in assoluto per nessuno, è patria e galere pullulare di manager bancari, nonostante che far sparire qualche miliardo è peggio che far sparire con tutto il rispetto a un'automobile, anche se all'interessato da più pasticci. Quando si impiegano 20 miliardi di soldi pubblici quindi che arrivano dalla tassazione generale, quindi dalle tasse dei cittadini, poi capire con un quadro chiaro... Come a me chiedono il rientro da quel prestito, è un classico che vediamo da anni.